Caro Luca, caro Emanuele Pozzi, intanto la vera forza di TVB85 Studio è il mio regista personale. Vabbè, buona giornata, siamo on the road, siamo en passant. Di cosa vi parlo oggi? No, facciamo diverso, facciamo tre minuti invece che di cose serie. Più tardi se Emanuele impaginerà, metterà le conferenze del volley, domani c'è, io sarò a Verona, intanto i giornali domani, su domenica, domani i giornalisti non lavorano, io sarò a Verona per Verona Spezia, anche se non scriverò, sarò lì per il volley anche se non ho la credito con il Covid. Quindi ci sono Trento e Conegliano in Champions League, nella Superfinals. racconterò il colore perché alla fine poi sbucano gli accreditati e gli ospiti. Perché spendo questi minuti? Perché al di là delle tante interviste che ho recuperato con il Canale 1, al di là dei mille messaggi con Emanuele, qualcuno anche no, mille con Luca Bello, qualcuno anche Emanuele, racconterò il costume, in parte già lo faccio e farò qualche filippica. Qualche filippica su la seduzione, l'attrazione, il savoir-faire, il mai con uno sconosciuto, il mi piace il tuo body language, eccetera. ovvero l'anti-tv, no? Un invito a non guardare TVB85. Se siete politically correct, cioè se, che so, avete, se avete il sorriso stampato, pre-stampato, se è la stretta di mano, se insomma, come posso dire, pensate che io sia pazzo, guardatemi. Se pensate che io sia frustrato, è vero. E raccontiamo, lo sapete, night and day, quello che vediamo qua. C'è la line, no? Un giorno ci apposteremo a raccontare. La line è un gigante degli accessori per la telefonia. Night and day, in spregio a ogni regola di buon senso, anche a ogni regola di deontologia. Perché? Sapete che oggi siamo tutti personaggi, no? Mia moglie no, ad esempio, ma mia moglie è coerente. Non ci sono quasi foto sue con il suo viso, insomma. Mia moglie schiva. Come non troppi oggi, eh? Ma il motto è mai con uno sconosciuto. Qui siamo davanti a una palestra storica, qui mia moglie e io siamo venuti spesso dal 97 al 2006. O per allenarci, avevamo anche un personal trainer che ci seguiva a domicilio nella sala giochi del condominio. Insomma, varie umanità, varie umanità. E Vanni Zagnoli Show, ovvero vannizzagnoli.it. Beh, in esclusiva, perché non ci vuole nessuno, escluso Luca Bello, però ci leggono, poi ci seguono. E non ci avessero chiuso il primo canale YouTube, saremmo abbondantemente oltre i 15 milioni e i 15 mila iscritti. Poi capita, insomma. Colore, costume, mai con uso sconosciuto. Buona giornata.